Non è soltanto la chiusura della statale bis da Fonte Cerreto per Alto Rischio Valanghiva preoccupare gli operatori turistici del Gran Sasso. C'è un'altra questione che danneggia i comuni del bacino di Campo Imperatore. La chiusura puntuale a ogni prima nevicata invernale dell'anno della strada statale 17 bis della funivia del Gran Sasso di Campo Imperatore nel tratto compreso tra le località di Monte Cristo e Fonte Vetica. In pratica la via d'accesso dal versante aquilano degli altopiani. Una chiusura dettata da un'ordinanza prefettizia che riduce i comuni in una situazione di isolamento proprio nei mesi in cui in quei territori si riversano centinaia di turisti e di sportivi che amano le attività fuori pista e le escursioni invernali. Una situazione contro la quale ogni anno protestano cittadini e operatori turistici finora senza soluzione. La manutenzione spetterebbe alla provincia dell'Aquila ma garantire nel periodo invernale la percorribilità delle strade di accesso a Campo Imperatore dal versante aquilano secondo quanto sostiene la provincia è impossibile per mancanza di mezzi. In realtà una soluzione esisterebbe. Si tratta di un progetto per l'acquisto di una turbina presentato due anni fa dal comune di Castel del Monte ma che si è inspiegabilmente bloccato come denuncia il sindaco Luciano Mucciante. Solo che purtroppo siamo da soli. non c'è una politica di territorio e questo è molto grave. La politica di territorio dovrebbe essere come era una volta condivisa con gli altri enti territoriali la provincia, la regione. Qui invece i bacini che sono naturali come il nostro, che è un bacino naturale, non ci sono impianti, non ci sono opere faraoniche, vengono abbandonati a se stesse. Quindi nessuno pensa ad aiutarli. Noi avevamo due anni fa, con proprio un progetto fatto dal comune di Castel del Monte con i fondi del 4%, quindi i fondi dello sviluppo, avevamo chiesto di acquistare una turbina proprio per servire queste aree interne. Quindi per arrivare fino al Gran Sasso e quindi collegare il comune dell'Aquila, il comune di Castel del Monte e il comune di Santo Stefano, tutta l'area, tutto quel bacino. Purtroppo però si è bloccata. Non so per quale motivo non si riesce ancora ad aprire le buste di un bando già fatto. E quella era la soluzione di tutti i problemi del periodo invernale di un territorio, ripeto, un bacino naturalistico che è ammirato e viene utilizzato da tantissima gente.